ci siamo ci siamo 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 in diretta siamo in diretta aspettiamo che entri qualcuno e poi ci presentiamo ok attendiamo attendiamo che instagram ci dice di attendere eccoci qua in salentare le prime persone buonasera a tutti i ragazzi benvenuti a questa primissima live gestita da me piacere piacere a tutti mi chiamo filippo schipani vengo dalla pagina instagram di figabike che si nome particolare lo so ne sono consapevole ma non è quello che pensate è una pagina di telefono è una pagina di cicloturismo che gestiamo che gestisco io e mio padre parla e dove parliamo dei nostri viaggi in giro per l'italia tutti gli anni ormai da tre anni che facciamo i nostri viaggi e oggi sono qui con pro cycling fanta per una rubrica abbastanza particolare che mi sta proposta negli ultimi tempi e oggi iniziamo con questa rubrica ovvero bicicletta con l'alfabeto ve la spiego molta molto molto rapidamente ogni due settimane del mese quindi due volte al mese avremmo la io vi racconterò degli aneddoti che ho fatto con durante i miei viaggi in bici non sono un grandissimo esperto avviso subito mi scuso se non conosco benissimo il mondo né delle gare né effettivamente tecnico delle biciclette sono semplicemente un ragazzo di 19 anni che gira in bicicletta con il proprio padre ma in questi tre anni abbiamo fatto diversi viaggi in giro per l'italia e oggi sono qua per raccontarvi qualche aneddoto cercando di intrattenervi un pochettino e di qualche aneddoto partendo da delle lettere da delle vocali io oggi il tema della giornata sono le vocali quindi non tutto quanto l'alfabeto ma soltanto le cinque lettere le vocali a e i o u e io ho un po' di idee ne ho scritta qualcuna ma se da voi del pubblico avete delle idee di parole che iniziano con una vocale inerente al mondo della bicicletta e volete sentire qualche aneddoto raccontato da me scrivete pure qualsiasi cosa vi venga in mente domande dubbi perplessità o qualche parolina che vi stuzzica la vostra fantasia volete sapere qualche mia opinione o qualche mio aneddoto su quest'ultima spero che vi senta tutto bene spero che vada tutto a posto mandatemi dei check se ci siete qualche salutino o cuoricino come volete voi e poi io direi che possiamo partire mi sentite tutti quanti punto di domanda vediamo un po' se qualcuno risponde interrogazione ok mi è arrivato un cuoricino quindi un cuoricino un focatello direi che va benissimo mi sentite direi che possiamo partire come ho detto il tema della serata sono le vocali ho preparato qua in realtà qualche parolina un paio di parole a lettera dal quale iniziare a parlare un po' dei nostri dei miei aneddoti ma anche per presentarci un pochino prima serata mi iniziamo un po' a parlare e come prima nonché prima parola prima lettera che è la prima lettera del nostro alfabeto ovviamente e nonché prima vocale ovviamente è la lettera a e come primissima parola ho scelto di andare molto sul vago in realtà come vi ho detto non sono un grande esperto di biciclette di gare di pezzi di bicicletta di riparazioni e bla 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 non sono molto tecnico e quindi ho scelto di parlare di uno dei del mio primissimissimissimissimo viaggio in bicicletta proprio la prima primo vero proprio viaggio a ciclo turista che è la via ciclo adriatica che si trova in italia la prima parola è proprio l'adriatica che mi è rimasto nel cuoricino perché è la prima volta che ho fatto un viaggio effettivamente lungo poco più di mille chilometri per l'esattezza con mio padre con mio padre infatti come già vi ho detto io ho una pagina di instagram gestita insieme a mio padre faccio viaggi in bici ogni estate con lui in realtà facciamo viaggi in bici in generale una volta andavamo in mountain bike ma un anno in maniera molto molto casuale in realtà lui mi disse senti filippo lui si chiama gaetano quindi figat questo non pensate male non pensate male senti filippo ma perché non non partiamo non non facciamo non ci facciamo un viaggio in bici io porto i tuoi fratelli giù in puglia perché siamo origini pugliesi e noi raggiungiamo in bicicletta una persona normale avrebbe risposto tu sei impazzito completamente io gli ho detto andiamo e infatti il nostro primissimissimo viaggio fatto è stato proprio la via adriatica partiti ad agosto i primissimi di agosto siamo stati in giro dieci giorni in bicicletta una media di 100 chilometri al giorno circa io completamente avevo 17 anni quando 16 anni quando ho fatto il primo viaggio quindi allenamento tantissimo in realtà però ripeto non davvero ciclista ed è stata un'esperienza veramente meravigliosa la via del ciclo adriatica in italia penso la più grande vista ciclabile che abbiamo nel nostro paese nonché secondo me è una delle meglio fornite delle più belle effettivamente parte da trieste e arriva fino a vasto quindi fa gran parte del mare adriatico ed è vera a tratti perché in alcuni paesi purtroppo è assente o ancora in costruzione ed è veramente è stata veramente un'esperienza molto molto bella forse sicuramente la meno faticosa perché le altri anni abbiamo fatto di peggio a parte alcune alcune situazioni divertenti ma ciclo adriatica è veramente una di quelle piste ciclabili che vi consiglio assolutamente di fare se vi piace fare viaggi lunghi in bici se abitate in zona o se volete farvi un weekend in bicicletta a girare un po il nostro bel paese andate sulla ciclo adriatica fa tutta quanta la costa e arrivate fino in abruzzo fino a vasto purtroppo oltre la pista è un po non esiste più non c'è quindi non arriva fino in puglia da lì in poi dovete passare per le statali e non è particolarmente divertente almeno non lo è stato per noi il caldo e bucare le biciclette non è mai una grande esperienza però però formativo sicuramente molto formativo e per quanto riguarda appunto la nostra bellissima pista ciclabile noi siamo stati ben sei giorni su questa pista e vedete assolutamente di tutto la strada è particolarmente pianeggiante tranne delle piccolissime parentesi sul conero soprattutto quella è sicuramente la parte più tosta se vi piace scalare con la bicicletta vi consiglio di passare per il conero perché è molto molto divertente sì sto dicendo i commenti assolutamente sì da ortona vasto è meraviglioso sono assolutamente d'accordo ma in realtà io sono rimasto veramente affascinato da tutta quanta la il viaggio dell'adriatico è relativamente semplice non non lo è perché se non sei allenato non è facile però è di quelli che abbiamo fatto è sicuramente quello relativamente più semplice ma ti godi veramente tutto quanto il viaggio la costa è stupenda i paesi che vai a visitare sono molto molto meglio vai dall'emilia labruzzo è meraviglioso parte ripeto il gargano dove non si il conero scusate il gargano viene dopo il conero che è veramente tosto ma anche quello ha del veramente del meraviglioso quando arrivate in cima sembra sembra di aver attraversato l'inferno dantesco una volta che scendete sentite liberi come un uccello che si libra nel cielo e poi un po momento poetico ma effettivamente la l'adriatica fa nascere quel quel senso poetico in fondo stiamo parlando di paesi di grandi di grandi poeti come d'annunzio che è nato proprio sul bar adriatico quindi un po un po di poesia nel viaggio in bicicletta c'è sempre quindi consigliatissima il viaggio sulla ciclo adriatica è sicuramente molto molto bello interessante come dice il nostro jukebike il tratto da ortona vasto è bellissimo e abbiamo anche un consiglio dal nostro cricks 1982 sul aggiustare cosa ti viene in mente sicuramente tanti pianti proprio partiamo partiamo da questo volevo parlare che il primo viaggio nella ciclo adriatica è anche stato quello dove abbiamo bucato abbiamo dovuto aggiustare di meno in assoluto anzi piccolamente tutto su vasto è stato l'unico punto dove effettivamente abbiamo rotto e abbiamo rotto abbiamo siamo rotto il si era rotto il il freno a mio padre abbiamo dovuti fermare proprio a vasto a ripararlo da un da un meccanico e si aggiustare nel viaggio in bicicletta allora io come ho detto sono completamente un ignorante sotto il punto di vista ciclistico sotto il punto di vista di dove mettere mano a una bicicletta alla ruota al manubrio e a qualunque cosa io sono partito da zero completamente mio padre qualcosina la sapeva perché lui ha fatto mountain bike più o meno è una persona abbastanza smanettona ma insomma sapevo che sì ma si può bucare una ruota e quindi aggiustare una ruota una cosa abbastanza aggiustare una ruota una camera d'aria cambiare una camera d'aria pensavo fosse una cosa abbastanza semplice mai cosa fu più sbagliata perché sicuramente fa parte del viaggio ed è una parte bella del viaggio perché io adoro gli imprevisti fare tutto la parte fare tutto il viaggio punto a punto b per me diventa noioso dopo un po o meglio a me piace pedalare piace vedere i posti è sicuramente molto bello ma quando c'è l'imprevisto è quel momento in cui dici cacchio sto viaggiando sto facendo un'avventura e godiamoci avventura in tutto quanto il suo il suo il suo spettro tutto quanto sua la sua essenza ora l'aggiustare parte da ci sono diverse cose ovvero dalle gomme dalla ruota dalla camera d'aria che alla fine è la parte abbastanza più semplice basta avere una camera d'aria nuova e una pompa per l'aria un po di forza nelle braccia e cambiare una camera d'aria non è un grosso problema il problema arrivano quando si rompono ad esempio freni quando si rompe il cambio quest'anno ad esempio mi ha fatto la strada del tirreno sempre a mio padre perché lui con lo sfigato della famiglia è completamente esplosa la si è completamente saltato in aria il il cambio della sua bicicletta e anche lì noi siamo sempre stati abbastanza fortunati sempre sotto il punto di vista di aggiustare le cose perché quando sono successi di imprevisti gravi è completamente esploso il suo cambio era impossibile andare avanti l'ho dovuto trainare io col cavo da traino per una quindicina di chilometri circa eravamo nella strada eravamo in lazio come zona anzi eravamo sotto grosseto quindi eravamo in corrente toscana stavamo per entrare nel lazio e in quel caso siamo stati siamo veramente preoccupati siamo stati molto fortunati perché in realtà a una decina di chilometri quindi nemmeno troppo vicino in realtà c'è stato un bravissimo meccanico che ci ha aggiustato la bici in un batter d'occhio veramente ha trovato un pezzo di cambio al volo e nel giro di una ventina di minuti ci aveva rimesso a posto le bici abbiamo recuperato completamente le ore perse però sì sicuramente aggiustare la bicicletta ed è una cosa che poi ho imparato anche a fare oggi ogni tanto quando un mio amico ha qualche problema con le bici cosa fai non li la guardi sei l'esperto di biciclette non è assolutamente vero sono completamente ignorante però ho iniziato devo dire che con questi viaggi si impara ad aggiustare a guardare la propria bicicletta a prendersi cura di quest'ultima a capire anche dove si trova il problema e quindi è un'esperienza estremamente formativa sicuramente andare in bici e oltre che formativa facciamo un salto da lettera passiamo la lettera alla u che è l'ultima delle nostre vocali ma facciamo un salto di quattro lettere che è un'esperienza attenzione a come avventura o a come audacia quale delle due ok volevo fare il salto per parlare dell'unione perché stavamo parlando proprio l'esperienza formativa però rispondiamo prima alla domanda del nostro jukebike a come avventura o a come audacia bella domanda io voto per avventura a me piace non so se sono una persona avventurosa sono una persona abbastanza pigra in realtà però mi piace andare all'avventura fare escursioni in montagna andare in giro camminare vedere posti nuovi mi piace molto 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 sicuramente io ho preso questo viaggio come un'avventura sicuramente un'impresa audace perché all'epoca avevo 16 anni non è una cosa molto comune per un 16enne fare un viaggio di questo tipo penso in realtà non sia una cosa molto comune in generale fare un viaggio di questo tipo ma proprio il senso dell'avventura mi è sempre molto piaciuto quando mio padre me l'ha venduta come facciamo questa avventura io ho detto sì 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 andiamo e effettivamente vivi un'avventura tutti gli effetti io ho scritto anche una lettera per i miei viaggi lo trovate sul mio profilo sul profilo di figabike sul primissimo viaggio dove parlo appunto del dell'esperienza fatta appunto nella ciclo adriatica sul e sul significato di questa avventura ho citando anche il signore di anelli di cui sono un grandissimo fan devo dire che mi sono sentito un po come personaggi del mondo fantastico di Tolkien o dei film perché ti senti speciale quando sei in bici quando fai un viaggio di questo tipo ti senti veramente questa avventura ti fa crescere ti fa sentire speciale ovviamente anche l'audacia c'è bisogna essere coraggiosi bisogna bisogna andare avanti anche nei momenti più tosti difficili almeno sono di questa idea ma l'audacia secondo me è un è uno spettro dell'avventura cioè l'audacia deriva da questa dall'avventura vera e propria quindi se devo votare avventura audacia io assolutamente voto avventura mi piace di più mi sembra una roba più romantica nel senso stretto della parola e proprio inerente a questa lettera proprio inerente l'esperienza formativa all'avventura volevo parlarvi della lettera u u come unione ho scelto esattamente grazie giù fai che era proprio volevo proprio parlare di questione con mio padre sempre avuto un buon rapporto con i miei genitori sono sempre stati due persone estremamente importanti per la mia vita sono sempre state delle persone a cui voglio tantissimo bene e cui sono particolarmente legato c'è a dire che però ovviamente l'adolescenza come per tutti i ragazzi un po' inizia il periodo di allontanamento cioè vuoi la tua indipendenza vuoi andare all'avventura appunto vuoi vedere più i tuoi amici inizia ad avere le tue questioni le tue cose ed effettivamente il tempo in famiglia si assottiglia sempre 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 di più è una cosa che mi dispiaceva il rapporto con mio padre stava un po' allontanando nel senso in maniera molto normale per un adolescente e quando mi ha proposto questo viaggio io in realtà ho pensato sì figata lo voglio fare perché è una cosa figa poi ho detto cacchio io devo passare 24 ore su 24 per dieci giorni per mille chilometri su una bici io e lui per tutto questo tempo già faccio fatica non è che faccio fatica però già in casa ci sono le varie le classiche litigate padre figlio a cui devo pure stare 24 ore con lui pesantissimo pensavo veramente sarebbe stata una cosa pesante e io ho detto allora o ci ammazziamo oppure cioè da qui in poi basta ed è andata bene perché effettivamente l'unione che ho stretto con mio padre è cambiata cambiato tutto il modo è cambiata moltissimo la nostra il nostro rapporto siamo diventati molto più uniti abbiamo iniziato a parlare molto di più e abbiamo riallacciato quei rapporti che con l'adolescenza si stava un po' andando a scemare ormai è il nostro rito ogni anno e ogni quando è possibile prendiamo una bicicletta andiamo da qualche parte ed è un po' il nostro nostro pellegrinaggio per per ritrovarci per ritrovare per parlare per riunire un po' gli spiriti gli animi devo dire che a livello di unione proprio personale è stata molto 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 importante come dicevo molto 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 formativa ed è una cosa che consiglio a tutti quanti se avete una persona che volete bene e se avete una persona che siete sicuri che potete fare una roba del genere mio padre è un grandissimo sportivo quindi sapevo che è un viaggio che poteva assolutamente fare lui ma se avete qualcuno a cui volete bene e qui siete sicuri che possa portare avanti un viaggio tosto perché è un viaggio tostissimo difficilissimo ma estremamente bello e affascinante fatela fatela con lui assolutamente perché almeno per me il rapporto è veramente cambiato è tornato un po' il rapporto più di infanzia più di infanzia no un rapporto sicuramente più maturo e più conoscitivo di entrambi quindi consiglio fatelo anche con i vostri cari perché è veramente una bella esperienza o amici va benissimo durante il viaggio avete incontrato anche qualche animale selvatico particolare bellissima domanda Giovanni Giovanni sei giusto perfetto io sto facendo crollare tutto quanto perché sono un disastro se vedete che crolla il telefono tranquilli io faccio crollare di tutto anche in bicicletta mi muovo come una scimmia cadono borse borracce di tutto mi vado a fermarmi a raccogliere le cose sono un po' un animale su questo punto di vista animale come gli animali selvatici che andiamo a vedere adesso sì abbiamo incontrato animali selvatici e in particolare allora il più bell'incontro che abbiamo fatto è stato con un cerbiatto in Toscana proprio quest'anno stavamo attraversando adesso non mi ricordo benissimo dove eravamo abbiamo superato Pisa eravamo sul tratto tra Pisa e Grosseto eravamo tornati sulla costa andando verso Lazio e a una certa vediamo questo cerbiatto che praticamente ha fatto un bel pezzo di strada con noi abbiamo pure storie e video sul nostro profilo ha fatto una parte, una pezzo di strada con noi poi ci ha praticamente una certa tagliato la strada velocissimo ed è andato via per i campi, per i campi toscani sparendo oltre l'orizzonte sicuramente è l'esperienza più bella mentre quella più particolare in realtà è stata una roba di qualche secondo questa qua quella col cerbiatto è stata dietro due minuti buoni quindi è stato proprio bello anche perché io natura di cerbiatti non li ho mai visti sono milanese e al massimo qua si vedono le nutrie o i piccioni sono animali selvatici, pericolosissimi no, non è vero mentre l'esperienza più paurosa tra è stata paurosa assolutamente sì è stato un cinghiale che ci ha tagliato la strada invece in Sardegna lì ho avuto abbastanza non dico paura però non avevo mai visto un cinghiale in libertà e non mi sono mai reso conto di quanto fossero effettivamente giganteschi pensate ad essere in Sardegna tra l'altro un posto meraviglioso un'escursione bellissima tra l'altro potrebbe essere anche una prossima lettera e di escursione in Sardegna un posto che vederlo a piedi o in macchina è una cosa completamente diversa da vederlo in bicicletta è bosco, sterpaglia e luoghi praticamente incontaminati veramente bellissima molto 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 difficile da fare in bicicletta perché non è assolutamente battuta per farla in bici almeno non con le bici che avevamo noi il mountain bike secondo me si diverte tantissimo e mentre eravamo in una strada completamente isolata fuori da qualunque centro abitato a 40 km dalla città più vicina e probabilmente a 20 dal paese più vicino in mezzo al nulla completamente nel bosco con il caldo clamoroso mentre stavamo pedalando immersi ai nostri pensieri nella musica o in qualche discorso tutto a un tratto ci passa davanti questo carro armato ho fatto questo piccolo piccolo per nulla questo carro armatino fatto di pelo e zanne che ci sfreccia davanti velocissimo io non me ne sono praticamente quasi reso conto scusate non me ne sono quasi praticamente reso conto ma ci aveva tagliato la strada a un cinghiale tra l'altro ci taglia la strada e poi si è pure voltato per guardarci o per dire avete qualche problema io mi sono abbastanza spaventato poi l'abbiamo risolta pedalando e facendo finta che non fosse successo nulla fortunatamente non c'erano cuccioli non c'era nulla e non l'abbiamo nemmeno troppo disturbato perché poi lui se ne è andato via per il bosco però quella è sicuramente più paurosa come esperienza gli ultimi animali selvatici forse quella è abbiamo incontrato più spesso i cani randagi specialmente andando verso il sud arrivati principalmente verso la Puglia se ne incontrano diversi di cani randagi lì ho fatto anche una un video sempre sul nostro profilo dove ne parlo dove ne parlo e ne abbiamo ne abbiamo beccato ogni anno praticamente ogni giorno quando una volta arrivati in Puglia se ne becca qualcuno qualche gruppo anche quelli fanno abbastanza paura fanno paura finché non ti rendi conto che effettivamente questi animali questi poveracci hanno più paura loro di te e quindi basta alzare un attimo la voce fare un attimo la voce grossa e questi cani fuggono via però le prime volte è stato abbastanza terrorizzante perché non sapevo non sapevamo bene cosa fare grazie mille Giovanni e rispondiamo anche a Crix che ci chiede invece e come estero e come Italia si mi hai hai spoilerato hai spoilerato le prossime lettere Crix perché io era come Italia e avevo estero di escursioni in realtà di estero non posso parlarne tantissimo perché non ho grandi esperienze all'estero in bicicletta abbiamo dei progetti in mente questo sì non so se dirveli o no comunque sia pensavamo tra i Balcani e la Germania come idea però posso parlare di estero posso parlare delle persone che abbiamo incontrato provenienti dall'estero in particolare parliamo anche di internazionalità come lettera e ne abbiamo incontrate parecchie nei nostri viaggi specialmente in Sardegna quello che mi è rimasto più impresso era un altro ragazzo folle francese con cui ho parlato tutto il viaggio in traghetto da Cagliari a Napoli con questo ragazzo qua lui veniva da Parigi proprio capitale della Francia e ha deciso un giorno ormai lui era in pensione di prendere e da Parigi arrivare fino a in Armenia ora non mi ricordo la città non voglio fare errori geografici imbarazzanti ma voleva arrivare in Armenia questo me lo ricordo e quindi ha preso la bicicletta si è preso si è dato 4 mesi di tempo e scendendo giù da Parigi si è fatto Parigi fino giù a Marsiglia Marsiglia-Genova e da Genova doveva arrivare in Puglia da Genova Porto Torre Scagliari Napoli e poi doveva arrivare in Puglia con noi purtroppo non ha fatto la nostra stessa strada perché voleva fare una stata un po' più avventurosa sugli appennini noi abbiamo fatto un po' più sicura e più tranquilla però il suo il suo obiettivo era di attraversare tutti i bali di arrivare in Albania di attraversare la Grecia la Bulgaria di scendere in Turchia e addirittura farsi il confine con l'Iraq un uomo assolutamente audace per quel che mi riguarda completamente pazzo ma molto 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 simpatico abbiamo incontrato anche tantissimi altri turisti scusate stranieri e devo dire che all'interno di gentilezza gli stranieri con noi sono stati particolarmente carini mi ricordo sempre una volta in Sardegna sempre parlando a livello di internazionalità della bicicletta abbiamo incontrato ups uplala come dicevo sono un animale faccio cadere le cose sempre parlando di internazionalità abbiamo incontrato un gruppo di belgi si dice così penso non lo so belga che erano in macchina quella volta erano una famiglia di ragazzi che arrivano dal Belgio mentre noi eravamo in Sardegna c'erano una roba come 40 gradi stavo morendo di sete avevamo finito tutta l'acqua ed eravamo in mezzo al nulla io non so quale santo ci abbia protetto anche di qualche divinità o qualche stella non so cosa credete voi qualunque cosa il karma o qualunque altra qualunque altra cosa ma in quel momento loro ci vedono passano di chancone con la macchina ci suonano per dirci e vai grandi noi morti completamente stavamo sciogliendo sul pavimento eravamo eravamo diventati la bicicletta sostanzialmente sciolta per terra e li vediamo che si fermano accostano mettono le quattro frecce e escono fuori con queste due bottiglie d'acqua enormi con dentro il ghiaccio e iniziamo arrivano con quest'acqua è per voi è per voi in inglese ma non lo parlerò perché sono pessimo con l'inglese e abbiamo scoperto che era una famiglia di ciclisti anche loro il padre la madre i ciclisti i figli aspiranti che quando ci hanno visto hanno detto no poverini questi qua se noi diamo dell'acqua ci muoiono qua e sono stati bravissimi sono dato la frutta da mangiare ci hanno dato dell'acqua e ci hanno non dico salvato la vita perché alla fine saremmo comunque arrivati ma sono stati veramente di grande di grande aiuto possiamo parlare anche appunto di unione tra le persone la bici secondo me unisce non solo non solo come tra parenti tra persone che si vuole bene ma anche tra le persone ed è assolutamente un linguaggio internazionale mettiamola così tanti ciclisti non me l'aspettavo quando sono entrato nel mondo del ciclismo pensavo ma sì ma andiamo in giro in bicicletta mai ne avrei aspettato mai mai mi sarei aspettato di trovare tanta gente così tanto appassionato banalmente come i ragazzi di Pro Cycling Fanta che ringrazio tutto oggi anzi ringrazio adesso di avermi chiesto il proposto di fare questa questa live ok abbiamo parlato un po' quelle lettera manca ci manca la U o ci manca la I d'Italia che ci aveva proposto prima Crix se non mi sbaglio sì la I d'Italia e forse con l'Italia non bisognerebbe fare un discorso leggermente più serio l'Italia è un paese bellissimo e che abbiamo girato parecchio ormai mamma mia quante idee mi stai dando a questo punto andiamo avanti mai pensato al cammino di Santiago ok sì abbiamo pensato al cammino di Santiago ci arrivo subito anzi no parliamo del cammino di Santiago abbiamo pensato anche al cammino di Santiago in realtà volevamo farlo proprio a livello come camminata prima ancora di pensare alla bicicletta cioè il nostro il primo viaggio che ho messo con mio padre la nostra prima avventura doveva essere quella poi in realtà era troppo piccolo c'erano le medie c'erano le scuole no le medie no c'erano scuole c'erano le verifiche la scuola poi le vacanze quindi abbiamo sempre procrastinato questo viaggio assolutamente sì però ci abbiamo ci abbiamo pensato e chi lo sa un giorno magari riusciamo a fare il cammino di Santiago completo dall'inizio alla fine tutti sono mille passa chilometri anche io non voglio dire stupidaggini a livello storico mi dà fastidio dire cose stupide però sì ci abbiamo pensato affetto esperienza internazionalità opportunità opportunità assolutamente e orizzonti ok mi stai rubando tutte quante le parole sei impressionante perché l'Italia ce l'avevo già anch'io estero pure adesso mi rubi anche gli orizzonti va bene sì 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 gli orizzonti più belli che abbiamo visto allora io sono rimasto incantato la primissima volta arrivati a il primissimo viaggio quindi siamo ancora a Londra Adriatico arrivati sul mare nella zona di Limi di Riccione stavamo scendendo la nostra prima alba al mare sveglia fissa alle 4 del mattino anche alba potrebbe essere un'idea per la prossima parola escono così escono così parlando infatti veramente l'obietto l'infrarossi prossima volta guarda lo nascondo meglio anzi tutto a mente poi magari inizia a leggermi anche il pensiero e no comunque sia mi sono rimasto veramente incantato dalla bellezza degli orizzonti la prima alba che ho visto cioè non è la prima alba che ho visto nella mia vita ma la prima alba è in bicicletta siamo svegliati sveglia fissa alle 4 del mattino quindi si parte siamo sempre a partire col buio e la prima volta che ho visto tutta l'alba cioè pedalando sulla ciclo adriatica vedere il sole che esce dal mare è qualcosa di veramente sono rimasto a bocca aperta tanto che le mie prime storie su instagram erano soltanto albe tutte tutte quante le albe poi abbiamo iniziato a fare altri altri tipi di gite sicuramente gli orizzonti più belli che ho visto sono stati in Liguria quest'anno la Liguria l'ho amata e odiata allo stesso tempo bellissimo posto bellissima regione ma un saliscendi continuo a una certa ero veramente esausto perché ogni volta che finiva una salita facevi una discesa ripartiva subito dopo una salita non ce la facevo più ma devo dire che arrivati in cima le varie colline Liguri si ha una vista veramente bellissima specialmente come sempre all'alba e vedere tutto quanto la costa il mare i paesini in lontananza della Liguria è stato commentare in un film come essere veramente la macchina la ripresa di un qualunque film e queste riprese bellissime e quelle me le ricorderò per sempre oppure la Sardegna la Sardegna specialmente finita noi siamo passati da Alghero abbiamo fatto un paio siamo passati da Alghero e scendendo giù verso Genova abbiamo abbiamo trovato appunto questi questo orizzonte bellissimo questi boschi infiniti perché la Sardegna è piena di boschi foreste montagne la Sardegna la gente è abituata a pensare alla Sardegna come mare ma noi che abbiamo sassato in bicicletta l'abbiamo vissuta solo come montagne e colline veramente un mezzo parto come viaggio ma veramente bellissimo e vederti da una parte la montagna la foresta è il nulla veramente la terra più incontaminata di sempre e dall'altra il mare è qualcosa di stupendo e poi le discese quando si sale in cima al colle sardo e poi inizia a scendere per quei 10-20 km di sola discesa con il mare da una parte lo strapiombo dall'altra tutti i paesini che si vedono in lontananza meraviglioso sicuramente a livello di orizzonti e di bellezze la Sardegna è stato il viaggio più bello in assoluto come acqua ah come acqua interessante interessante ne abbiamo presa tanta in realtà si pensa che partire in estate ah che bello fa caldo che bello c'è il bel tempo no abbiamo preso un botto di acqua ma ne racconterò una sola in particolare proprio quest'anno perché abbiamo quest'anno c'è stato un bruttissimo temporale un ciclone nella zona del Lazio tra l'altro dove era entrata in zona rossa aveva distrutto tutti quanti i campi nel Lazio aveva fatto un disastro questo maltempo enorme e fatto sta che noi con la solita fortuna che abbiamo nei nostri viaggi dove ci trovavamo quando è arrivato il più grande cataclisma dell'anno che ha colpito il Lazio eravamo in mezzo a questa tempesta notte fonda era luna di notte quando avevamo appena iniziato a dormire perché eravamo in un lido eravamo in un lido il lido dove era la serata discoteca quindi musica palla doveva esserci fino alle due quindi impossibile dormire perché eravamo di fianco a discoteca con le tendine tutti gli altri a ballare urlare io a piangere perché non potevo andare e perché ero stanco morto quindi discoteca fino a mezzanotte impossibile dormire poi inizia a piovere e diciamo ah che bello inizia a piovere la gente se ne va la gente se ne va la discoteca finisce e dopo venti minuti dall'inizio della pioggia inizia un temporale enorme acqua vento la tenda che si piegava sentiamo la gente fuori che urlava che scappava tra l'altro ci ha colpito anche una tenda volando via da quelli di fianco a noi è stato veramente un acquazzone enorme clamoroso di cui però noi eravamo pronti prima volta nella nostra vita perché mio padre ha avuto l'unica volta che ha deciso guardiamo il meteo ha visto il temporale quindi ci eravamo abbastanza attrezzati tanto che dopo questo gigantesco acquazzone di che è durato tutta la notte abbiamo finito alle 4 quindi appena finito noi siamo usciti tranquillissimi noi usciamo dalla tenda il campeggio era completamente vuoto deserto deserto non c'era nessuno e ci siamo guardati a dire ok eravamo rimasti l'unica l'ultima e unica tenda in tutto quanto il campeggio tutti gli altri eravamo nascosti nella reception nei bagni dove c'era la discoteca sotto e noi eravamo lì da soli con la nostra tendina abbiamo messo via le robe ci siamo andati non dico neanche la distruzione che c'era nel campeggio abbiamo trovato una tenda su un albero il paio della luce caduti ma veramente un'equazione disastroso terrificante però anche molto molto divertente perché uscire sera prima era 200 milioni di persone tutti quanti intorno a noi a ballare la mattina siamo alzati e non c'era nessuno eravamo l'ultima tenda l'esperienza unica ed inibitabile beh direi che no di per sé il viaggio in sé è l'esperienza unica e inimitabile non mi avrebbe nemmeno in mente diversi aneddoti perché viaggiando in bicicletta facendo questi viaggi così lunghi ogni secondo è qualcosa di unico e inimitabile il viaggio in sé e soprattutto farlo col proprio padre è qualcosa di unico ed è qualcosa che è abbastanza irripetibile ogni viaggio di per sé è ripetibile abbiamo fatto l'Adriatica abbiamo fatto il Tirreno abbiamo fatto la Sardegna ognuno completamente diverso ognuno con i suoi problemi magari analoghi tipo le ruote che si bucavano succede sempre però il viaggio di per sé è veramente qualcosa di sicuramente inimitabile per chiunque perché nessuno farà mai un viaggio come l'ho fatto io come io non farò mai un viaggio come potreste farlo voi qualcosa di irripetibile unico e e poi sono voluto farlo con il proprio genitore qualcosa abbastanza di si può dire romantico sempre nel senso letterale della parola letterario della parola o come ostinazione quanta ce ne vuole nel senso capita spesso di pensare ma che me l'ha fatto fare assolutamente sì come come si spinge a tener duro e a non salire sul primo treno allora bella 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 domanda bella bella domanda mi è mai capitato di pensarlo sempre mi capita di pensarlo dal momento uno cioè dal primo giorno alle 5 del mattino del primo giorno che ti svegli cioè avevi tutta l'estate dove potevi dormire tranquillissimo 6 agosto farti le tue vacanze no ti svegliai alle 5 del mattino e già lì pensi ma chi me l'ha fatto fare sali sulla bici e dici ma chi me l'ha fatto fare di scendere in bicicletta vai sulla staglia e dici ma chi me l'ha fatto fare di andare qua è un buon pensiero fisso chi me l'ha fatto fare perché devo fare un viaggio di questo tipo perché devo non posso farmi la mia vacanza sulla tenda nell'hotel sulla tenda sulla sdraietta arrivo al mare nell'hotel o in montagna con gli amici a vedere e far serata me lo chiedo spesso me lo chiedo sempre durante il viaggio ma come si va avanti perché perché non si sale sul primo terreno perché non non si molla tutto si molla la bicicletta e dici oh basta io me ne vado perché secondo me è una cosa di cui di cui ti innamori viaggiando il primo momento in cui ti svegli in cui capisci che stai per fare qualcosa di un'impresa vera e propria perché è un'impresa dici ok questa è una cosa unica facciamola vai partiamo molto molto spirito avventuroso e poi parti parti viaggi fai il primo viaggio in bicicletta il primo discorso con tuo padre vedi le prime cose che non hai mai visto ti fai la prima ciclabile entri nella statale incontri le prime persone che ti salutano ti fai il primo stop al primo ristorantino in mezzo alla strada o al primo paninaro e ti fai le tue storie vedi i primi commenti delle persone e te ne innamori cioè non è una cosa di cui ti innamori da solo di questo viaggio e quel pensiero del chi me l'ha fatto fare diventa un sì l'hai fatto tu perché sei stupido però se dovessi dire basta se dovessi salire su questo treno io mi perderei il secondo dopo il minuto dopo l'ora dopo il giorno dopo di questa pedalata questa esperienza di questa impresa di questo viaggio mi perderei tutto tutta l'unione tutta la formazione che può avere tutto il rapporto che si può venire a creare anche col proprio padre sempre torniamo sul discorso e quindi perché non sale sul primo treno perché secondo me è una cosa di cui poi ti innamori un po' come chi va a correre o chi fa palestra o chi gioca a calcio tu magari te lo dici chi me l'ha fatto fare perché devo svegliarmi alle 6 del mattino per farmi una partita di calcio perché devo svegliarmi alle 6 per andare a correre perché è una cosa di cui poi ne hai bisogno vuoi sapere come va avanti vuoi sapere fin dove ti puoi spingere e vuoi sapere io sono arrivato fino a qua ma perché non posso farmi altri 10 chilometri ma perché non ne posso fare altri 20 ma perché non ne posso fare altri 100 e cosa succede in quei 10 20 10 15 20 chilometri ci sono stati invece momenti di sconforto totale assolutamente sì ed è per questo che io consiglio sempre di farlo con qualcuno se l'avessi fatto da solo probabilmente tempo 2-3 giorni avrei detto basta perché da solo non so come sono fatto io ma sicuramente da solo un po' di dispersione di perdersi cioè farlo con una persona al proprio fianco e avere quella persona che tira su di morale o anche tu che devi tirare su quella persona perché mio padre mi ha dato una grandissima mano però anche lui ha avuto bisogno di una mano ogni tanto e avere qualcuno di fianco è servito è servito sì ragazzi è tutto merito mio se il viaggio è nato a buon film no vabbè ovviamente no ma quindi sicuramente qual è l'ostinazione avere una persona di fianco e voler scoprire andare avanti innamorarsi del viaggio in sé e e poi anche anche la pagina instagram secondo me l'instagram è stato è stato molto utile sotto questo punto di vista perché avere sapere che c'è qualcuno che ti segue che ti commenta che ti guarda che dice oh ma dove sono arrivati cosa stanno facendo e dici cioè non è che adesso posso prendere il treno che figura ci faccio tutte queste persone che mi scrivono grandissimi siete troppo forti siete i miei idoli è successo è successo di ricevere questi bellissimi commenti è anche un po' per loro che dici ma scusami ma io mi devo fermare se mi fermo poi questi due mi dicono vabbè io ti ho dato tutta la mia speranza la mia fiducia e poi tu mi abbandoni su un treno no quindi non si può non si può mollare non ci si può mollare bisogna essere determinati mettiamola così purtroppo la D oggi non c'è magari tra due settimane avremo anche la D e come immaginazione qual è il sogno relativamente a un viaggio in bici il mio sogno per un viaggio in bici ne ho uno nel cassetto non so se si può dire ma sì ma diciamo anzi lo dico perché è talmente assurdo che se lo farò farò tra tanti anni e mi piacerebbe farmi tutte le americhe in bicicletta se lo so sono pazzo dovrei andare da uno psicoanalista probabilmente sì P di psicoanalista prossima volta prossima lettera quando sarà la P lo metteremo solo per voi e sì no il mio sogno è partire non so da la terra dei fuochi giù in Argentina e risalirmi tutta quanta le americhe fino ad arrivare su in Alaska e farmi tutta quanta tagliata in verticale ma c'è una piccola fin da piccolino questo sogno non so perché è una striscia che dico beh bello sarebbe figo fare un viaggio del genere quindi sì la bici dopo che ho scoperto questo viaggio in bici mi piacerebbe tantissimo farlo e e di immaginazione quindi ce ne vuole tanta tanta fantasia tanta immaginazione è un viaggio molto difficile molto impegnativo di cui bisogna prepararsi tantissimo e soprattutto essere consci di dove stai andando cosa che io non saprei ad oggi ma sì questo è il mio viaggio immaginario preferito se no se parliamo un po' più sul nel concreto mi piacerebbe tantissimo per i prossimi anni provare a fare la via degli appennini quindi magari un figa bike quattro dove si scende giù per i colli degli appennini proprio una roba semplice facile per non ammazzarsi troppo quindi farsi tutte quante le montagne magari vedere l'Umbria e comunque farsi l'entroterra oppure oppure sicuramente andare verso l'estero però per quello ci sono già progetti in corso chi lo sa per me se devo dare l'immaginazione vorrei girarmi il mondo in bicicletta a livello concreto si può fare poco però il si oppure i paesi paesi scandinavi che so che ci sono sono abbastanza forniti specialmente dalla Germania e la Limarca a livello di ciclabili quindi chi lo sa magari un prossimo viaggio non si andrà a Bari ma si andrà a Copenaghen quello sarebbe sicuramente un mio gran sogno anche uscire un po' dall'Italia e vedere com'è il resto dell'Europa e il resto del mondo parlando di bicicletta perché vedo l'Italia e per quanto molto bella io la ritengo poco fornita sotto il punto di vista cicloturistico sotto il punto di vista delle piste ciclabili e del resto è molto poco fornita purtroppo ti devi molto arrangiare quando viaggi in Italia almeno per noi è stato così chissà magari all'estero si possono trovare altri modelli abbastanza interessanti per andare avanti allora come Appennini come Abruzzo Abruzzo abbiamo fatto e lo dico si può dire si possono si possono andare delle preferenze ma si dai abbiamo una preferenza ah come Abruzzo io il viaggio nell'Adriatico è stata secondo me la regione più bella che abbiamo attraversato cioè non più bella ma quella di cui ho i ricordi migliori più che altro perché è stata molto non lo so mi è piaciuta Pescara mi è piaciuta la cicla Adriatica in Abruzzo è molto 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 fornita molto 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 bella abbiamo mangiato molto 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 bene e tra l'altro lì ho incontrato anche un mio caro amico che si era fermato che era in vacanza là e quindi ho fatto una una giornata con lui tra l'altro a Ferragosto quindi proprio perfetto e quindi sì dell'Abruzzo sicuramente il ricordo migliore più più sentimentale della regione nel primissimo viaggio vuol dire scusatemi tutte le regioni sono bellissime meravigliose l'Abruzzo mi è rimasta un pochino più nel cuore mentre l'Appennino grande sogno attraversarlo l'abbiamo già fatto due anni di fila da Napoli a Bari quindi in realtà Napoli-Benevento ed è veramente tostissimo è stato veramente la parte più tosta d'altro il viaggio la più lunga attraversata che abbiamo fatto in bicicletta è stata di 160 km ed è stato l'anno in cui siamo andati ad Aprile-Appennini quindi da da Benevento in realtà a Benevento eravamo già in mezzo fino a Foggia abbiamo fatto un giro lunghissimo ci siamo persi non vi sto neanche a spiegare quest'anno gli Appennini è veramente veramente massacrante e allo stesso tempo sono bellissimi tra l'altro abbiamo fatto la Francigena il secondo il secondo anno quindi l'anno della Sardegna e forse il percorso più bello che abbiamo fatto è proprio la Francigena sugli Appennini tostissimi perché faceva un caldo bestia senza acqua come sempre perché noi partiamo con 200 borracce e poi ci dimentichiamo di riempirle quindi siamo sempre senza acqua sempre al caldo con le bici scassate perché dopo mille chilometri le bici sono chiedono pietà di fermarsi quindi l'Appennini sicuramente la zona piuttosto l'abbiamo fatto con i cani randagi perché ogni tanto si beccano anche gruppi di cani randagi ma molto molto bella molto 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 interessante sicuramente il tratto anche a livello paesaggistico non come la Sardegna la Sardegna mi è rimasta più impressa nella mente ma molto molto figo se siete della zona fatelo il tratto Napoli-Benevento è molto molto carino anche fino a Foggia è carino e poi i cani randagi quindi tenetevi pronti preparati però è un viaggio che consiglierei assolutamente tra l'altro l'unica roba assicuratevi che le vostre bici siano belle messe perché se vi si buca una ruota su una salita negli Appennini non è una cosa divertente lo dico per esperienza perché poi ripararla è un po' un parto e tanti 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 pianti tanti pianti e delusioni una parentesi ma se qualcuno volesse accompagnarmi per una tratta ci avete mai pensato ok sì in realtà sì ci avevamo pensato in realtà ci è stato proposto più volte anche da alcuni dei nostri follower di fare un tratto di strada con noi purtroppo già il primo anno nella zona di Pescara dovevo ridirsi un ragazzo aneddoto che purtroppo poi per una serie di vicissuti familiari di incontri vari non è potuto venire a noi ci farebbe tantissimo piacere mio padre mi dice sempre di invitare i miei amici i miei amici mi danno del pazzo e mi dicono no col cavolo che lo faccio tu sei una persona folle non vengo con te quindi nulla i miei amici non vengono ma assolutamente a noi piacerebbe tanto condividere questa esperienza con qualcun altro anche al di fuori della sfera familiare quindi signori se qualcuno fosse interessato a venire un anno col figa bike ci scriva pure o qua su Pro Cycling Fanta oppure direttamente sul nostro profilo Instagram e se vogliamo organizzare una biciclettata non fa soltanto che piacere l'unica cosa magari è anche anche soltanto per dei tratti ovviamente non chiediamo alle persone di farsi mille chilometri e passa per arrivare in Puglia ma se siete di passaggio se qualcuno dovesse essere di passaggio volesse farsi un cento chilometri un dieci un venti un cinquanta chilometri con noi ne farebbe un sacco di piacere ci piacerebbe si creano anche altri legami a me piace fare amicizia a mio padre pure quindi unitevi tranquillamente ok abbiamo se ci sono altre domande altre lettere abbiamo parlato per un bel po' e ce ne sono altre io sono sono qua tranquillo tranquillo per risponderne ad altre altrimenti spero che la mia chiacchierata sia stata di vostro gradimento vi sia piaciuta io sarò qui due volte al mese mi trovate sempre qua per le autografi no sempre prosecco infanta mi diranno si puoi starci io ci starò volentieri è stata una bella chiacchierata mi avete fatto un sacco di domande sono molto contento e appunto spero di avervi intrattenuto abbastanza di esservi stato simpatico almeno e nulla grazie mille per averci seguito come sempre ricordo anche di giocare sul sito di prosecco infanta a prosecco infanta dato che siamo qua siamo ospiti io vi do un consiglio se siete amanti della bicicletta fatelo e se siete qua siete amanti della bicicletta per forza e nulla quindi vi ringrazio vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima signori io sono Filippo di Figa Bike e questa era la prima puntata delle nostre dell'alfabeto della bicicletta e bacione ci si vede ragazzi